da massimo foghetti oggi è martedì 4 gennaio 2022 il sole sorge questa mattina alle 7.41 e tramonta alle 16.44 ci sono lievi variazioni di giorno in giorno ma le giornate impercettibilmente si stanno allungando e lo faranno insomma fino poi al sostizio d'estate oggi si festeggia vediamo un attimo il santo del giorno e sant'angela da foligno sant'angela di foligno eccola qua una bella immagine sant'angela visse tra il 1248 e il 1309 si sposò ebbe dei figli ma visse una vita sregolata fino alla morte del marito poi si convertì e si fece terziaria francescana ebbe molte visioni visse una vita religiosa molto intensa ebbe molte visioni ed estasi che la resero una delle più grandi mistiche del suo tempo poi fece anche un memoriale che è attuale ancora oggi dunque una santa marchigiana una santa vicino a noi ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo vediamo che ancora il sole rimane nella nostra regione sarà una giornata stabile sulle marche caratterizzata da spazi soleggiati ma dal transito anche di nubi stratificate talora estese il clima rimane mite le temperature dovrebbero oscillare tra gli 8 gradi per quanto riguarda la minima e 13 per quanto riguarda la massima e oggi apriamo i giornali a partire dal resto del carlino vediamo qui la prima pagina eccola che viene inquadrata questa prima pagina del resto del carlino vediamo il titolo di apertura il paradosso si parla ovviamente di sanità il paradosso i ricoveri come un anno fa in regione in tutta italia ora sono la metà del 2021 da noi no perché arrivano anche da altre province invece la fotonotizia è dedicata alla scuola alla ripresa delle elezioni rientro a scuola il capo dei presidi lancia l'allarme contagi rischiamo lo tsunami questa è un po la preoccupazione di tutti i presidi poi vediamo le notizie all'interno ancora violenza per quanto riguarda la cronaca frattura un braccio alla compagna lui aggredito mi sono difeso si scusa poi per quanto riguarda il femicidio di gradara di fanano dopo l'omicidio della moglie e l'assassino minacciò di morte anche il ristoratore dove la donna lavorava appunto il datore di lavoro a fano bacchiocchi lascia lo storico bar aurora in piazza è stato bellissimo cambia gestione e poi spari minacce e pestaggi fratelli terribili restano in carcere così ha decretato il giudice per quanto riguarda i due colombiani di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda lo sport vediamo calcio direttanti va avanti solo l'eccellenza demetrio per il basket la vl ora mi sento parte del gruppo ha dichiarato il brasiliano e la svolta dopo il cremona giornata da recuperare c'è l'ipotesi del 16 e apriamo subito i giornali a partire dalla pagina di fano dove vediamo che si parla di un articolo si parla di una notizia un po inconsueta perché marco del rico ha intervistato le centraliniste dell'ospedale santa croce dove affluiscono telefonate sia ovviamente richieste di informazioni di carattere sanitario ma anche persone che vogliono soltanto parlare in questo caso si parla anche del commissariato e vediamo il titolo l'esercito dei soli nel natale del 5g anziani e giovani senza distinzione chiamano ospedale commissariato anche per una sola parola di conforto una persona che ha bisogno di parlare spiegano le centraliniste del santa croce spesso rifiuta di prenotarsi usando i sistemi usando i sistemi automatici che indicano lunghe procedure e non danno risposte personalizzate quindi più che il computer preferiscono alzare la cornetta del telefono se ormai si usa così perché non c'è più la cornetta vabbè comunque usano parlare a voce e confidarsi avere delle risposte rispondere anche loro a delle domande insomma avere un contatto un contatto personalizzato e questo è un articolo da leggere è un articolo che fa riflettere e poi abbiamo due personaggi che vengono evidenziati oggi dal resto delle carlino uno è gino bartolucci definito l'uomo del fare l'uomo pragmatico l'uomo concreto l'uomo che non si ferma le parole ma fa i fatti l'altro invece lo vediamo nella pagina successiva si tratta di un barista di filippo bacchiocchi che lascia lo storico bar di piazza 20 settembre il volto noto del cuore della città il 24 aprile 1993 è iniziata l'avventura della gestione di questo bar e il 31 dicembre 2021 è finita quanti vip al bancone ricorda appunto filippo perché tutte le persone che transitavano a fano e che facevano riferimento al teatro della fortuna ovviamente facevano riferimento a questo bar dove si beveva una buonissima moretta oppure tutte le altre consumazioni nel suo locale filippo bacchiocchi ha visto passare nel corso degli anni tantissimi personaggi nazionali e locali ed è stato testimone dei numerosi eventi e manifestazioni che nel corso dei decenni si sono svolte in piazza 20 settembre uno su tutti per quanto riguarda gli ospiti illustri il premio nobel dario fo per non parlare dei tanti personaggi di festival e teatro ritorniamo indietro e vediamo le altre notizie marciapiede dissestato cade dalla carrozzina si tratta di un problema che è a sant'orso una residente in un appartamento di edilizia popolare al quartiere di sant'orso denuncia mia figlia ha rischiato di farsi male seriamente da anni chiediamo di sistemare e qui vediamo una immagine di come la pavimentazione dei percorsi è dissestata e ovviamente è molto pericolosa poi per chi procede con una carrozzina che può inciampare e ribaltarsi la protesta quando si parla di inclusione si devono considerare i casi contrari la situazione diverse persone sono cadute in terra ora nella zona attendono risposte udici contro il sindaco massimo seri una presa di posizione molto molto critica che il partito di opposizione fa nei confronti della della giunta della giunta seri sul sindaco piovano critiche di davide del vecchio e stefano pollegioni l'udc altri due anni di seri i cittadini non li meritano secondo appunto il partito che cosa si critica si critica soprattutto la variante di gimarra la viabilità della trave sono tutte situazioni che hanno generato proteste da parte dei cittadini i parcheggi a pagamento nel lido quest'estate il lungomare e il lido abbandonati a se stessi quartieri e frazioni lasciati nelle mani di nessuno la vasca di raccolta delle acque al lido che ancora non funziona sono alcune dei problemi con cui la giunta si confronta rispetto ai quali la giunta ha preso delle direttive delle soluzioni che magari non piacciono a tutti i residenti e dopo ora ci trasfermiamo a marotta a marotta abbiamo una presa di posizione del consigliere di minoranza samuele mancini che chiede alla giunta barbieri di non abbandonare i cittadini di marotta nord e soprattutto marotta nord è quella che confina con il comune di fano vediamo anche poi nel corriere adriatico come si parli degli allagamenti del 16 novembre scorso a ponte sasso e sulle a carlino si parla dello stesso avvenimento che ha caratterizzato il territorio limitrofo quello confinante di marotta marotta ha subito danni da questo allagamento e si cerca ora di correre ai ripari il consigliere invita l'amministrazione comunale a chiedere lo stato di emergenza alla regione e poi vedremo che fine ha fatto questa richiesta che il comune di fano viceversa ha presentato ci attendiamo maggior chiarezza sulle opere programmate per risolvere il problema ha detto mancini a san lorenzo in campo nuovi operai e anche altri mezzi l'inizio dell'anno porterà in dote al comune altri dipendenti e di questo abbiamo visto anche un articolo nella giornata di ieri qui abbiamo la foto del sindaco dell'onti a urbino addio maria mamma degli studenti è deceduta la signora maria andreani per decenni è stata l'anima del bar degli universitari insieme al marito giovanni il suo locale alla casa dello studente è stato il rifugio di chi era lontano da casa insomma un punto di ritrovo per tutti e anche una parola buona un sorriso da parte di questa signora che era diventata un po la beniamina di tutti gli studenti universitari e a urbino si parla anche molto della via dei presepi la creatività da parte da cose parte da cose povere dice il titolo nonostante alcuni giorni siano stati penalizzati per il meteo l'afflusso è stato buono a san domenico l'opera di marcello bolognini vediamo non si riesce bene a capire da questa fotografia ma l'immagine suggestiva il presepe realizzato dal fermignanese marcello bolognini assieme al suo presepio lineo qui un presepe di legno nella chiesa di san domenico ad urbino ebbene la via dei presepi è una delle attrattive maggiori appunto della della città ducale e ha toccato il picco a capodanno anche se c'è stato un calo attorno al natale comunque è stata una delle attrazioni più richieste all'ufficio yacht del comune secondo solo a palazzo ducale quindi chindato urbino ha visto prima palazzo ducale e poi la via dei presepi e qui abbiamo anche un articolo che riguarda ancora l'assalto dei lupi non questa volta ad un grege ma ad una piccola mandria di di mucche e buoi ebbene due lupi si sono avvicinati ad un recinto sono riusciti a forare la rete stavano per attaccare i vitellini ma le mucche e i buoi che cosa hanno fatto hanno fatto un circolo hanno messo i vitellini all'interno del circolo e hanno appunto difeso dall'attacco dei lupi i quali non sono riusciti ad entrare anzi sono stati messi in fuca da un toro che lì proprio agguerrito gli stava per prendere a cornate e i lupi stavano per avere la mala parata in quanto poi non riuscivano più a ritrovare il buco per uscire finché non è arrivato il padrone ha distratto il toro e questi per un attimo poi sono riusciti a fuggire comunque niente sangue per questo episodio la befana si festeggia ad urbania ma con prudenza si inizia oggi pomeriggio a urbania con il tradizionale appuntamento inevitabilmente il programma cambia a causa della pandemia viene ridotto non ci saranno la tradizionale calata della befana dal campanile e la calza più lunga del mondo nei tre giorni della festa appunto fino al 6 di gennaio da oggi all'epifania si potranno visitare la vera casa della befana veramente la vera casa della befana dove la vecchina risiede tutto l'anno e poi il suo ufficio postale dove scrivere una letterina alla befana con l'aiuto delle sue assistenze tanti anche i laboratori tra cui quello di ceramica per realizzare una befana e quello della cucina per creare dei biscotti dedicati alla vecchina con la scopa volante poi anche altre iniziative dunque il covid non vince appunto questa festa tradizionale a mercatello sul metauro abbiamo una presa di posizione del consigliere regionale giacomo rossi rossi occhi puntati sulla guinza attenzione dice rossi perché sembra che l'anas voglia insistere nel realizzare riaprire appunto questo traforo della guinza solo con una con una galleria e non con due il consigliere comunale di mercatello sul metauro monitora atti e documenti prodotti nel tempo insomma si insiste non si vuole un completamento della fano grosseto parziale ridotto ma si vuole una superstrada degna come è stata fatta insomma e come è stato fatto il primo tratto ecco uno shock amministrativo a fossombrone chiarabilli partono i lavori pubblici la giunta berloni in poco tempo ha programmato interventi per un milione e 800 mila euro e nei prossimi mesi sia in preventivo altri interventi 500 mila euro sulle strade il secondo e ultimo tralcio del ponte di san martino dei muri il recupero dei giardini di viale cairoli il lato destro di viale martiri della resistenza la manutenzione straordinaria del centro di urno le ville la sistemazione della cappella mortuaria nel cimitero la sistemazione della facciata alla corte bassa l'adeguamento sismico di alcune scuole come borgo sant'antonio e calmazzo ma sono solo alcune delle opere in programma a fossombrone a senigallia a senigallia focolai covid in montagna e al matrimonio attenzione perché dove c'è assembramento c'è sempre il rischio di essere contagiati il resto del carlino fa l'esempio questa mattina di una coppia di giovani senigallesi che hanno scoperto di essere positivi al rientro della settimana bianca e come loro altre tre coppie che si trovavano nello stesso appartamento positivi anche 25 ospiti di un matrimonio abbiamo trascorso tutte le vacanze di natale in quarantena spiega un invitata purtroppo alcuni hanno avuto problemi con il lavoro e trovare sostituti all'ultimo momento non è andata meglio ad un pranzo di natale dove i nipoti arrivati sulla spiaggia di velluto dopo aver trascorso giorni precedenti all'università di bologna hanno contagiato la gran parte delle persone che erano state invitate quindi quindi attenzione molta attenzione e veniamo anche sulle pagine pesaresi un anno fa avevamo il doppio dei ricoveri ma c'è il caso pesaro solo qui sono stabili il 3 gennaio del 2021 i pazienti covid nelle strutture sanitarie marchigiani erano 546 mentre ieri era una quota 286 da noi invece la differenza è minima da noi come pesaro 101 contro 98 perché arriva gente da altre province restiamo il come provincia il lazaretto della regione intitola il resto del carlino e su queste due tabelle la prima riguarda i ricoveri nelle Marche la seconda i ricoveri a Marche Nord e quindi nell'azienda ospedaliera della nostra provincia vediamo la situazione della terapia intensiva della terapia subintensiva e dei reparti non intensivi e vediamo come appunto a Marche Nord nel 2021 era 19 ora sono 23 e la terapia subintensiva da 45 cala a 24 mentre i reparti non intensivi aumentano da 37 dell'anno scorso a 51 di quest'anno e poi si parla di scuola di scuola e qui vediamo i tre presidi delle scuole superiori pesaresi e sono Roberto Lisotti del Mamiani Riccardo Rossini del Marconi e Giuliana Donatella Giuliani dell'Agrario cecchi rientro i presidi temono lo tsunami contagi dad per i novax bene no viola la privacy dirigenti dunque in trincea per i giorni successivi al 7 di gennaio le opinioni sul nuovo piano del governo che divide allievi immunizzati e non ebbene qui ci sono tre dichiarazioni dei presidi dividere le classi tra presenza e dad non è molto vantaggioso per l'insegnamento dice Lisotti mentre Rossini ora dovremo gestire i novax che hanno finito le aspettative e i congedi vari e dice appunto il preside del Marconi Donatella Giuliani aggiunge io posso sapere chi è positivo non chi è vaccinato questo problema va risolto appunto per i presidi le mascherine FFP2 bisogna razionarle non si arresta la pioggia di richieste alle farmacie i prezzi rimangono stabili grazie anche all'intervento del governo un prezzo di una mascherina 0,50 centesimi e dal 31 dicembre a Pesaro e poi vediamo un lutto è morto a 50 anni Giacomo Grossi aveva due passioni le moto e il ristorante si tratta del titolare della capannina sulla panoramica di San Bartolo uno dei più noti della città come locale la parola le parole della moglie Lucia ha lottato fino all'ultimo e deceduto a causa di un male incurabile ha combattuto perché voleva ancora vivere e poi invece sulla pagina di fronte vediamo un ritorno sul delitto appunto di Fanano ha ucciso Natalia e farò lo stesso con te sono le dichiarazioni dell'ottantenne che appunto è stato interprete di questo delitto nei confronti del datore di lavoro di Natalia attribuendo a lui la causa appunto che ha generato il delitto un altro caso di cronaca la spedizione punitiva dei fratelli terribili spari violenti e minacce ridateci la droga restano dentro i colombiani andiamo un attimo se riesco a metterlo meglio ecco restano dentro i colombiani accusati di aver picchiato e rapinato trapeso le Vallefoglia i minorenni che gli avrebbero sottratto Ascis ieri dopo la convalida dell'arresto il GIP Francesco Messina ha accolto la richiesta della procura e ha deciso di tenere in cella i due fratelli difesi dell'avvocato annunziata Cerboni Baiardi. Ancora sulla pagina del resto del Carlino vediamo il caso di violenza tra una coppia le fratture le frattura il braccio ma mi sono difeso sono le giustificazioni dell'uomo un giardiniere finisce nei guai per l'aggressione alla compagna lui però ribalta il racconto e dice mi minacciava con il collo rotto di una bottiglia e quindi mi sono difeso e poi insomma deve fornire le sue spiegazioni di fronte al tribunale. I commercianti mentre si stanno realizzando i saldi un anno di alti e bassi vallefoglia giro d'opinione tra gli operatori dei vari settori ci sono stati periodi difficili nel 2021 speriamo nei prossimi mesi insomma quando magari con tutti gli aiuti dello Stato le famiglie dovrebbero avere più soldi in tasca speriamo. Abbiamo poco tempo per dare un'occhiata al Corriere Adriatico vediamo subito la pagina di Fano dove l'articolo di apertura è dedicato ad un settore della economia locale particolarmente importante quello delle vongole. I francesi stregati dalle vongole filiera fanese di grande qualità, un focus per una spedizione di un'equipe televisiva francese di France Troyes dal mare alla lavorazione. Questa troupe, questa equipe è venuta a Fano e ha accertato tutte le fasi della lavorazione dalla pesca alla spedizione delle vongole. Uno dei prodotti tipici fanesi che ha già conquistato il mercato della Spagna e ora punta verso la Francia. Ne parla Tonino Giardini oltre al per piace la sostenibilità di questa pesca, ha dichiarato. Ponte Sasso, nessun stato di emergenza per l'alluvione. La Regione ha respinto la richiesta del Comune per i danni di novembre e quindi i residenti non potranno contare su nessun rimborso a parte sul rinnovato impegno della Giunta Comunale di assumere nuovi correttivi per evitare che le alluvioni si ripetano. E qui abbiamo invece un articolo che riguarda le critiche avanzate alla Giunta dall'Udc in modo particolare da Davide Del Vecchio e Stefano Pollegioni l'Udc attacca, è ostaggio del PD di Minardi, la Giunta, solo anni di continui fallimenti per quanto riguarda appunto la gestione del Comune da parte della Giunta Seri. Invece nell'articolo a fondo pagina si parla di soldi, arrivano fondi, arrivano 8 milioni, verranno impiegati per la rigenerazione urbana, sono stati finanziati progetti presentati dalla Giunta e sono parecchi questi progetti che il Sindaco ha annunciato e vengono elencati appunto su questo articolo. Ancora sulla pagina di Fano, Urbanistica trova pace, Giangolini è il dirigente, l'architetto ha vinto definitivamente il concorso dopo dieci anni a tempo determinato. e qui lo vediamo Adriano Giangolini che si è occupato sia dei lavori pubblici che di urbanistica, ora si occupa solo di urbanistica e ha vinto definitivamente, è stato il migliore per quanto riguarda sia la prova scritta che la prova orale per il concorso al ruolo appunto di dirigente del Comune di Fano. E poi ancora sulla Val Metauro, a Fossombrone, quasi 2 milioni di opere pubbliche, sarà un vero shock amministrativo, parla il Vice Sindaco Carabilli sul finanziamento di interventi per strade, lavori sul ponte di San Martino e sui giardini, parte anche la pulizia delle oltre 4 mila caditoie presenti. A Mondolfo, Val Cesano, in due settimane, contagi più che raddoppiati, a terre roveresche, positivi, triplicati, restano stabili solo a Monteporzio. Invece vediamo l'articolo che riguarda Senigallia, anche qui vediamo troppi positivi al foro onorario, salta la mostra dei mattoncini Lego, peccato perché era una mostra, un'iniziativa che interessava tanto i bambini quanto gli adulti, era stata programmata l'ex pescheria dal 2 al 16 di gennaio, il Comune ha dovuto pagare 3.200 euro, peccato per questa iniziativa che avrebbe attirato anche i bambini e gli adulti da altre località. E vediamo sulla pagina di Pesaro, la pagina di Pesaro, eccola, comincia qui, da Piazza del Popolo, che sarà oggetto di un restyling, i lavori sono in partenza, la riqualificazione tra i primi interventi messi in agenda dall'amministrazione comunale e si attendono gli ultimi pareri da Marche Multiservizi alla soprintendenza. Si rifarà tutta la pavimentazione in porfido e sull'articolo vediamo anche le disposizioni per quanto riguarda la concomitanza dei lavori con il lavoro delle persone che lavorano attorno alla piazza e quindi ci saranno presumibili disagi. Per la Sunset Island qualcuno dovrà pagare politicamente. Baiocchi e Fratelli d'Italia intervengono sul pasticcio della gestione del parco acquatico che ha funzionato solo per due stagioni, nel 2018 e nel 2019. Bene, a questo proposito, dati i problemi che sono sorti, il Comune dovrà farsi carico di una rata di 32 mila euro da versare a Pesaro Parcheggi e rimasta appunto sul gruppone dell'amministrazione comunale. E qui abbiamo invece le pagine dedicate alla cronaca, le spedizioni punitive per il furto di droga di due colombiani, l'omicidio di Natalia, nuovi guai per il marito, il ristoratore lo ha denunciato appunto per le minacce. E ancora, a Durbino, la città vuota, io ho dati differenti. È l'assessore Cioppi che parla in questo caso e dice che durante le festività la città ducale è stata oggetto di molte visite, celebrazioni federiciane per svoltare. Ebbene, Federico da Montefeltro costituirà un po' l'emblema dell'attrazione turistica per questa stagione. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno al TG di Fano TV delle 20 e 30. Buona giornata. Grazie a tutti.